Il signore della macchina, qui presente, mi è appena venuto contro, lui si è fatto questo danno, guarda l'idiota, guarda l'idiota, e io ho avuto il pezzo rientrato. Scusa, è rientrato, lui mi è venuto contro e lui mi ha piegato il parafango, cosa che di qua invece è regolare. Guarda, un re l'idiota, guarda. Questo è l'idiota, guarda. Guarda, un re l'idiota, guarda. Guarda, guarda. Guarda.